Ciao, sono Lucilla Titta, ricercatrice e nutrizionista all'Istituto Europeo di Oncologia e girerò questo video oggi per il Festival della Mente di Sarzana, di cui sono stata ospite nell'edizione del 2019. Oggi vi parlerò di come organizzare la spesa per questo periodo di quarantena. E innanzitutto è bene scrivere quello che ci serve così da essere più veloci e efficaci durante la spesa. Potete scrivere quello che vi serve nell'ottica di comporre un pasto salutare, quindi un piatto sano. Metà di questo piatto dovrebbe essere composto da verdura, l'altra metà da fonte di carboidrati e proteine. Quindi il primo reparto in cui approderete al supermercato, quello di frutta e verdura, è quello più importante perché sono frutta e verdura gli alimenti più deperibili. Quindi scegliamo della verdura facilmente deperibile come l'insalata ad esempio per la prima parte della settimana, mentre invece per l'ultima parte della settimana meglio carote, cavoli, broccoletti, cavolfiori che durano più a lungo. Stesso discorso per la frutta, quindi sceglieremo della frutta più deperibile per l'inizio della settimana come i frutti di bosco e quella che dura di più per la seconda metà della settimana, quindi mele, pere e frutti di questo tipo. Passata l'area frutta e verdura, che è l'area più importante, possiamo pensare a fonti di proteine e fonti di carboidrati. Per le proteine è giusto alternare carne, pesce, uova, formaggi magri e legumi soprattutto durante la settimana. I legumi hanno diversi vantaggi, sono molto salutari, ricchi di fibre, si conservano a lungo e poi adesso che non abbiamo più tutta questa fretta possiamo anche permetterci di metterli a mollo tutta la notte per poi cucinarli il giorno dopo. Un'altra accortezza è quello di congelare il pesce ad esempio, che così durerà più a lungo. Mentre invece per le fonti di carboidrati è molto più facile perché come sapete pasta, cereali in chicco come riso, orzo, farro, avena, insomma tutti i cereali in chicco si conservano a lungo, quindi possiamo fare una bella scorta e averli anche per più di un mese. Per il pane è bene scegliere, se si sceglie il pane confezionato che dura un po' più a lungo di quello fresco, sceglierlo con pochi ingredienti, poco sale e soprattutto senza grassi saturi aggiunti come strutto. Riguardo ai grassi, per rimanere in tema, anche qui non abbiamo problemi di conservazione, l'olio extravergine di oliva si conserva a lungo, così come la frutta a guscio, come noci, nocciole, arachidi, sempre meglio non salate, che sono ottime fonti di grassi moninsaturi e polinsaturi che sono molto utili per la nostra salute. Quindi buona spesa, salutare e spero che vi possa essere utile.